Buongiorno, dunque è vero che gli italiani danno il meglio quando sono sotto pressione in modo drammatico, così era marzo e in effetti abbiamo dato prova di poter in qualche modo reagire al Covid, in questa seconda fase si vede che c'è più allentamento, che c'è stato durante l'estate, adesso c'è una fioritura di sciocchezze, casualità, opinioni che da un lato stanno creando un caos, anche nei provvedimenti che si devono prendere e non solo qua si parla del governo, ma enti locali, si annuncia coprifuoco, coprifuoco signori è una parola grave, è una parola gravissima, forse si fa male ad usarla, riduzione dell'orario di uscita, che però è coprifuoco, si annuncia il coprifuoco, le guerre, le coprifuoco sono durante le guerre e poi per un giorno e mezzo ci stiamo pensando, ci stiamo pensando, o si fa o non si fa, o si fa un'iniziativa forte, o si fa un'iniziativa meno forte, si vuole, tutti dicono non vogliamo una nuova chiusura, non vogliamo il lockdown, però di fatto, ora ve lo dimostrerò e ve lo farò dimostrare da un mio ospite che è certamente più bravo di me sulle cose che sa e conosce, che invece certi danni li stiamo facendo e certe chiusure le stiamo facendo e ne pagheremo le conseguenze, però attenzione perché tutti parlano, dicono cose confuse e c'è gente che impazzisce, per esempio tutte le persone note che si ammalano di Covid, consiglierei se non sono bravi a darti l'impressione della malattia quanto ce l'ha data Silvio Berlusconi che l'ha avuta in un modo grave e ci ha dato subito un'impressione chiara che ha subito messo a posto i negazionisti, è una malattia, ragazzi non la sottovalutate, prendete le precauzioni, ma se invece sono semplicemente meno bravi ma anche più autoreferenziali e comincia a spiegare i dolori lancinanti che loro subiscono, tacciano per carità, siamo solitari con i loro dolori lancinanti e speriamo che passino presto, però non comunichino all'opinione pubblica delle cose di questo tipo, perché ci sono tanti malati, perfino terminali e perfino di altre malattie che non hanno mai comunicato il minuto per minuto del dolore, perché il dolore va sconfitto e comunque va controbattuto, non va comunicato come una specie di fiore all'occhiello, sperando tanto poi passa, intanto io la mia personalità la centro su questo e poi ci sono ministri, non ve lo dico perché ora vado fuori tema e sarebbe peggio, però ve lo dirò forse alla fine se ho tempo, ma intanto resto su questa cosa della comunicazione del dolore, della malattia. Io ieri ho seguito un'iniziativa che è stata presa a Roma, ma vale per tutta Italia, ci sono degli specialisti che sono specialisti almeno di tre settori importantissimi della medicina, settori che salvano la vita, cioè l'oncologia, si sta parlando del sangue e si sta parlando anche dei trapianti, dei trapianti di midollo e poi la cardiologia e si sta parlando di infarti, si sta parlando di cose che conoscete tutti i giorni, qualcuno a casa ha questo problema, l'ha avuto e l'ha avuto pure durante il Covid dove persone sono morte marzo, aprile, maggio, perché non c'è stato il tempo, la misura e il soccorso necessario pronto per portarli in salvo, per intervenire per esempio su un infartuato, ma qui le cose stanno peggiorando, stiamo scivolando, perché il tema di ieri era anche la prevenzione, era anche la prevenzione. Se tu alcune cose oggi ci dicono, ho parlato con dei professori, dottori bravissimi, che hanno detto pure il Covid il problema è prenderlo subito, cioè subito bisogna capire come si sta mettendo, perché gli dai certi farmaci o non glieli dai, secondo come si sta mettendo, se lo prendi subito eviti di finire nella polmonite, perché Covid e polmonite non sono sinonimi, Covid è come HIV positivo, polmonite è come AIDS conclamato. Allora, forse intervenendo a metà si può evitare che tutti vadano a finire in quello, però, però, e qui sempre riferisco cose che ho sentito a cui credo, però gli ospedali sono pieni, però i medici che sono negli ospedali mi dicono, guarda direttore, che almeno il 25% di persone potrebbero non stare qui, però ci sono, perché? Perché i medici di famiglia e del territorio, appena ricevono una telefonata, non dicono fatti vedere, fatti visitare, come alcuni medici hanno dovuto fare, con delle persone li hanno sentito come si fa dietro le spalle, poi l'hanno portati a fare un'attacca, poi hanno visto se il polmone era interessato e poi l'hanno ricoverati magari d'urgenza, no? Gli dicono vai al pronto soccorso e quando arrivi lì, non possono fare altro che metterti in un letto e poi sperare che non finisci anche nella terapia intensiva se no occupi sia il posto e sia la terapia intensiva, ma in alcuni ospedali se entrano pazienti di Covid bisogna sgomberare il resto, non puoi tenere persone che hanno avuto un infarto vicino a pazienti di Covid guardate, questa cosa che vi sto dicendo io è pragmatica, penso di non aver sbagliato, però adesso mi fermo perché questi specialisti che ieri hanno fatto questo congresso e questa associazione ci dicono attenzione perché pagheremo nel tempo e negli anni le conseguenze di un anno in cui le altre malattie che sono mortali e che sono malattie che vanno prese con la prevenzione per tempo non le stiamo osservando, non le possiamo prevenire. Io ho collegato con me uno dei professori che ieri ha fatto questo convegno e un promotore di questa cosa qua è il professor Cognetti, Franco Cognetti che dice, lui è oncologo, attenzione, oncologo di quelli che hanno sperimentato per tanti anni proprio la terapia del dolore, quindi insomma è un oncologo che fa questo mestiere da tanti anni non è che vede il paradiso mentre il Covid è l'inferno, vede un altro inferno ma lo vede anche in partenza vorrei sentire tutta la storia e la sua opinione Grazie direttore dell'invito, noi in effetti siamo i medici, i dottori, quelli che vedono giornalmente decino, centinaia di pazienti, quindi abbiamo un po' il posto della situazione quello che sta succedendo, di quello che potrebbe succedere ove non vengano messi in atto sistemi o provvedimenti che siano adeguati come è successo purtroppo già nei primi tre mesi dell'emergenza e quello che è successo nei primi tre mesi dell'emergenza è che sono stati cancellati o dilazionati molti interventi chirurgici per tumore e questo già è una cosa grave purtroppo perché può incidere sulle possibilità di cura di ogni paziente che si ammala di questa malattia, sono arrivati ai pronto soccorsi cardiologici alle UTIC la metà degli infarti del miocardio che erano stati osservati nello stesso periodo dell'anno precedente e è stata osservata un aumento del doppio della mortalità per il mio cardio, questo dovuto naturalmente essere tutte e due le situazioni a l'intasamento delle terapie intensive sia per i malati che devono essere operati che poi dovrebbero essere utilizzati terapie intensive sia per i pazienti cardiologici, è successo che sono state perse molte visite di controllo, quelle poi fortunatamente sono state recuperate, ma quello che è più grave sono stati sospesi e ancora non riprendono in modo adeguato e regolare gli esami di screening per i tumori della mammella, i tumori del colono, i tumori del colono e i tumori del colono dell'urto e questo è già in grado di agnosporico, di agnosporico tardiva quindi presumibilmente tra qualche anno assisteremo all'aumento della mortalità per i tumori del colono dell'urto e questo è chiaro che adesso non è possibile perpetrare questi ritardi, anzi ci dobbiamo realizzare a tre o quattro anni fa, ci si fa quando prevedevano verificare quello verificato. Ecco, vediamo se riusciamo a migliorare l'audio che dipende dalla linea perché lei naturalmente lavoriamo come lavoriamo in questo periodo, lavoriamo a distanza, studiamo a distanza, ci esaminiamo a distanza, vediamo se riusciamo a migliorare l'audio perché però si è capito tutto bene, si è capito? Metà dei casi… Se vuoi spostarmi? Non lo so, lì… Se vuoi spostarmi se vuoi… Sì, forse si può spostare in un posto dove prende meglio, dove prende meglio, io intanto riassumo quello che ho capito molto bene, metà degli infarti al mio cardio rispetto a quelli che erano nello stesso periodo dell'anno e raddoppio dei morti, significa che molta gente non è stata raccolta in tempo con l'infarto in corso ed è morta. Poi ha detto una cosa ancora più grave, ugualmente grave che le operazioni per i tumori. Ora, tutti sanno, chiunque mi dispiace di parlare con grande libertà e leggerezza di una cosa che coinvolge le persone a casa, ma chiunque ha avuto un'esperienza o anche in diretta tumorale sa che quello che dicono i medici è che il tumore, se preso in tempo, può essere stroncato. Naturalmente, se uno ha bisogno di un intervento e non si fa in tempo, il tumore cresce, perché è quella la natura del tumore. È così, no? Professore, può parlare lei così vediamo com'è l'audio? È migliorato, è migliorato. Allora, il tumore procede. Lo stesso, ieri voi avete avuto anche dei professori di ematologia. È ovvio che le ricerche in campo ematologico sono fondamentali per tante di queste cose, per esempio per le leucemie, per esempio per i linfomi, per esempio per i trapianti, per esempio per il midollo. Sono tutte cose che si fanno a tempo. Se si perde il tempo, la situazione degenera. Quindi, praticamente, la vostra diagnosi, perché siete medici, qual è? Che usciremo da questo Covid con un aumento anche di mortalità in questi settori. Il problema è che si stravolgerà proprio la proporzione di mortalità tra quelle malattie oncologiche, cardiovascolari, più o meno nel nostro Paese ogni anno di queste grosse patologie. se ne muoiono 420 mila cittadini italiani, ma noi assisteremo ad un aumento consistente per una cosa a parte di pazienti che invece potevano guarire, perché soprattutto nel caso dell'ematologia si sono fatti progressi enormi nelle leucemie e nei linfomi. Molti pazienti che potevano guarire, purtroppo, per i ritardi moriranno se non si prendono dei provvedimenti seri, se no, se l'attività Covid, che peraltro deve essere fatta assolutamente, non esistono pazienti di serie A o pazienti di serie B, esistono pazienti che tutti devono essere adeguati, trattati adeguatamente e tempestivamente. Quindi, i pazienti, se per esempio, come sta succedendo negli ospedali, i posti letto vengono sottrati a pazienti che invece fanno parte di altre patologie, hanno bisogno di altre cure per evitare Covid, è chiaro che si creerà un problema, aumenterà la mortalità per le altre patologie. Sì, quello è scontato, quindi bisogna… E qui entriamo… Noi, per esempio, facciamo delle proposte, non facciamo solamente analisi crisi, facciamo delle proposte. Intanto gli ospedali devono essere separati, ospedali per pazienti Covid e ospedali per pazienti non Covid. Non si può mettere insieme nello stesso ospedale pazienti che hanno necessità, precauzioni completamente, temi di cura completamente diversi. Guardi le terapie intensive, come ha detto anche Guido Bertolaso l'altra sera in televisione, ma se la terapia intensive è un open space con 20 letti, se lei usa 5 letti per pazienti Covid, gli altri 15 letti non possono essere occupati, perché è un ambiente che non è completamente separato. Quindi si creano dei problemi e la tendenza è quella di inserire il trattamento per i pazienti Covid negli stessi operali dove vengono curati gli altri. Certo, io poi invito sempre sull'analisi, ora dobbiamo anche fare un ragionamento sulle proposte col professore che rappresenta anche gli altri suoi colleghi che ieri hanno occupato questo spazio, noi ne parliamo di questa associazione che è stata tra voi. Però per completare l'analisi io vi invito questa sera, credo di essere completamente informato, poi tutto può cambiare, di ascoltare bene il Tg4 alle 19, che sarà trasmesso anche dal TgCom in Simulcast, perché credo che ci sarà un forte elemento di analisi del professor Zangrillo che indipendentemente dalle discorsi di valutazione del virus è però un rianimatore, è però uno che ha una terapia, cioè che è al San Raffaele, ha lavorato in una terapia intensiva e dice delle cose ben precise, tra cui proprio quello che diceva il professore, perché? Perché sempre nell'analisi ho sentito molte volte dire in questi giorni perché noi proteggiamo le persone più fragili dal Covid e si dice agli anziani, quelli che hanno delle patologie, ma se le persone più fragili sono fragili in materia cardiologica, oncologica, ematologica e abbiamo i medici migliori che dicono attenzione, perché stiamo trascurando, la prima protezione è quella di separare gli ospedali e curare tutti e due i malati in ogni caso, perché altrimenti li proteggiamo dal Covid con l'isolamento, con il lockdown, ma non li proteggiamo dalle loro malattie perché non sanno dove ricoverarsi e non sanno dove poter avere i loro interventi. Credo di non sbagliare, no, professore? Esatto, il problema adesso che si pone è l'eclutamento dei medici, perché noi veniamo da una stagione, da più stagioni e non c'è differenza politica, sia i governi di centrodestra che i governi di sinistra hanno tagliato, quando ce l'ha da tagliare, hanno tagliato sulla sanità in modo indiscriminato e sul personale. Adesso noi abbiamo una carenza di medici incredibile, abbiamo una carenza di infermieri, per cui in questi 4-5 mesi sono stati fatti contratti determinati, quando si parla di assunzioni di 30.000 medici, sono state tutte assunzioni a tempo determinato, i cui contratti sono scaduti e i medici sono andati via, molti non sono rimasti e quindi è difficile adesso arruolare i medici che sarebbero necessari. L'altra proposta nostra rilevante è quella di affidare alcune funzioni che sono state svolte in ospedale a servizi territoriali che però funzionino, che siano strutturati, che siano frequentati da medici specialisti, ma anche da medici di medicina generale, completamente diversi da quelli che sono stati in ora i servizi territoriali della nostra sanità. Questo consentirebbe di evitare proprio quello che diceva lei, che un paziente che ha un colpo di tosse immediatamente ricorre all'ospedale e viene ricoverato e lì si incasano i letti di decenza che non si rendono più fruibili per i pazienti delle altre patologie. Non solo, ma il numero va a comporre quelle cifre che noi vediamo ogni sera e abbiamo un comitato tecnico scientifico che orienta le decisioni del governo e anche delle regioni che dice noi aspettiamo i numeri per decidere, ma i numeri sono spesso falsi, fallaci, possono sbagliare perché noi incrementiamo quei numeri con i tamponi che viva Dio vanno fatti, ma però se aspettiamo che scende il numero per prendere delle decisioni sbagliamo. Poi non solo non si fanno le cose che diceva il professor Cognetti, ma poi si chiude pezzi della società naturalmente peggiorando la situazione. Adesso io dico due cose, ci hanno raccontato professore, che lei l'ha detto adesso, ma lo voglio ripetere bene, ci hanno raccontato, sono stati assunti 33 mila medici, ma noi non abbiamo detto fermatevi, noi abbiamo detto potete andare avanti, sono quelli che le dovevano assumere, le regioni che non le hanno assunti, però lei ha ricordato che questa cosa si è rivelata un altro mito, un'altra leggenda, perché i 33 mila sono assunti a tempo determinato, a tempo e nel frattempo molti medici sono andati in Germania dove li hanno assunti con contratti a tempo indeterminato, sono andati fuori e invece bisognerebbe assumerli a tempo indeterminato. Ci hanno detto, noi abbiamo stanziato le terapie intensive e gli altri reparti, ma le regioni non li hanno presi, poi siamo andati a vedere che erano stanziati sulla carta, ma non sono state fatte queste cose, sono state dette, assumete i medici, ma non sono state fatte. Quindi secondo quello che dicono i dottori, medici, professori che ieri hanno lavorato sul concreto, su queste altre malattie, bisogna separare gli ospedali, bisogna costruire degli ospedali. Qui c'è un grosso problema perché tutti dicono vogliamo dei soldi da spendere, vorremmo dei soldi da spendere, però nessuno ci dice io voglio spendere lì, lì, l'ha detto il Ministro Speranza, però questi soldi non ci sono. Allora c'è tutta la polemica sul MES, l'avrete seguita? È molto finta questa polemica, lei lo sa, non si tratta del MES, si tratta del soccorso per la crisi della pandemia, PCS è la sigla di questi 36 miliardi, non MES, soldi destinati solo alla pandemia con un tasso di interesse molto basso, 0,70, il tasso di interesse dei nostri buoni del tesoro è superiore. Allora ci sono Ministri in carica che dicono no, ma è giusto non prendere quelli e invece usiamo i nostri buoni del tesoro, due danni, gli interessi sono maggiori e per di più li possono comprare anche dall'estero fino a impadronirsi del debito pubblico italiano. Con quei soldi, certo che il capitale poi va restituito, ma in realtà l'interesse è vicino allo zero, purché vengono usati per la sanità. Voi con quei soldi li fareste altri reparti, li fareste altri ospedali, assumereste altri medici? Guardi direttore, io non voglio fare politica. Ma però purtroppo la sanità… Faccio un'analisi, qui servono soldi e servono tanti soldi. Ora, qual è la provenienza? Non lo so, ma mi pare che l'unico mezzo attualmente, rapidamente, fruibile sia quello del MES. Ma non lo dico io, l'ha detto il commissario Gentiloni, l'ha detto il Presidente Zingaretti, che è il segretario del PD, che è partito rilevante nell'ambito della maggioranza. Lo dicono tanti politici che questi sono gli unici soldi che sono immediatamente fruibili e anche dal punto di vista economico in modo vantaggioso. Comunque sono soldi, per noi servono soldi, molti soldi. Non sono i 4 miliardi stanziati per l'anno prossimo. Ne servono molti, molti di più. E qui si parla di 36 miliardi da usare subito, velocemente, per costruire altri reparti di ospedale per il Covid, separati da quelli attuali, per far funzionare la sanità nei suoi tradizionali funzionamenti, quello che fate voi. E poi c'è un discorso di emergenza. Credo che l'emergenza oggi sia anche nei vostri settori, anche nei vostri reparti, perché molti reparti vengono chiusi. Ancora, l'emergenza adesso è soprattutto nelle aree a maggiore concentrazione di contagi. Sono tre sostanzialmente le regioni in emergenza, soprattutto la Lombardia, la Campania, ma purtroppo anche il Lazio. Poi ci sono altre regioni, diciamo, a media intensità di emergenza, e poi ci sono altre regioni che sono un po' più tranquille, poche, devo dire. E adesso la situazione attuale la conosciamo, non conosciamo quella che sarà la situazione fra dieci giorni, fra venti giorni. Qualcuno pensava, dice, l'autotauro a Natale, ma a Natale come arriveremo noi? Ora, il problema del controllo del contagio, io voglio essere molto sincero, e naturalmente non c'è stato un cattivo controllo del contagio nel nostro Paese, anzi, dopo un'iniziale crisi non si conosceva la patologia. Poi non ci siamo ripresi molto bene, tant'è che occupiamo posizioni molto buone nella graduatoria dei contagi per popolazione. Dove siamo andati male è nella graduatoria della mortalità dei contagiati. Noi abbiamo percentuali, tassi di mortalità nei contagiati veramente molto, molto elevati, tra i primi nel mondo e i primi in Europa. Quindi è una situazione che ci deve far riflettere, bisogna riflettere su queste cose. Perché si è determinata questa elevata mortalità? Bisogna pensare, valutare, e questo lo possono fare soprattutto i dottori, perché sono quelli che conoscono la realtà sul campo, perché vedono i pazienti. In realtà ci sono stati due problemi, secondo me. Uno è stato il ritardo con cui questi pazienti, pur gravi, arrivavano in ospedale. E il secondo motivo è stato l'intasamento degli ospedali che non ha consentito di erogare cure di qualità. Poi si può discutere, ma si deve discutere, la situazione va analizzata per evitare gli errori del passato. Io spero che voi continuerete a dare il vostro contributo in questa direzione. Lei ha detto una cosa che io, per carità, non voglio fare il censore, però la sposo, devono essere i dottori e i dottori degli ospedali, quelli che vedono i pazienti, i malati, tutti i giorni, a parlare di queste cose oggi con più concretezza. Direttore, questa è questione di scienza, non è questione di politica, è questione di scienza. Sono d'accordo con lei, però lei converrà con me che alla fine il timone di queste cose, l'ha detto negli anni precedenti, senza colore politico, con tutti i colori politici, e adesso e negli anni che seguiranno, il timone poi alla fine, perché la cassa la tiene la politica. Cioè è questione di scienza, ma lei mi dice, mi serve un respiratore, qualcuno glielo deve comprare. E per autorizzarlo è questione di pressione dell'opinione pubblica. Quindi voi avete fatto benissimo a dire la vostra, perché avete esercitato la vostra pressione in un senso positivo. Io la raccolgo, la rilancio e spero che altri lo facciano. Grazie professor Cognetti, grazie mille di questo intervento e naturalmente ci siamo occupati di altre malattie, della medicina, perché non possiamo pensare che il Covid è tutto lo scibile umano della medicina e delle cure. La gente muore anche per altri fattori, tutti intrecciati. Buona giornata, fatti e misfatti, chiude qua e lascio la linea al Tg.com. Grazie.